Ciao sono Ivan, Kenica del Camino Progetto Fuoco. Seconda giornata, oggi parliamo di video ispezioni. Sto per procedere alla pulizia delle canne fumare qua da mio papà. Ti rimando al video precedente se sei interessato a capire come si muovono i tecnici del settore e i prodotti che si usano per le pulizie professionali. Andremo ora a fare una video ispezione prima della pulizia e dopo la pulizia. Vi farò vedere la differenza dopo la manutenzione. Domani verrà Luca e parleremo di attrezzi più tecnici, qui come analizzatore di combustione faremo una prova di tiraggio, prova di tenuta e altre cose particolari. Rimani sul canale se vuoi restare aggiornato e guarda il prossimo video. Per domande lascia un commento qua sotto, un like è gradito. Procediamo con le video ispezioni. Procedo ora con la rimozione del comignolo. Questa è la canna fumare della caldaia che abbiamo visto precedentemente che va a servire tutta la casa. Si consumano circa 120 quintali di legna e un bancaletto di pellet perché è una combinata. Nonostante si facciano due manutenzioni all'anno, c'è una grossa produzione di catrame, specialmente dovuta al fatto che negli ultimi anni di legna secca non ce n'è stata tantissima in giro. Vado a smontare e procediamo con la video ispezione. Dopo una decina di minuti di tentativi mi sono reso conto che a causa del catrame il comignolo non si riesce a rimuovere. Quindi cosa faccio? Sfrutto la flessibilità di sonda flex, che vi farò vedere tra poco, per andare a fare la pulizia. Per la video ispezione non cambia assolutamente niente. Entrerò qua di lato e grazie agli attrezzi di Wooler risolviamo anche questo problema. Più avanti toglierò l'amico, lo taglierò col flessibile e ne metterò uno nuovo. Cosa mettere nella valigetta? Sempre un metro a portato di mano. La telecamera della Wooler ha un contametri che è abbastanza preciso, però bisogna sempre considerare che quando si sporca il filo qualche centimetro lo perde. Quindi se volete essere sicuri al 100% della misura usate un metro e per il diametro della canna fumaria usate un metro. Mi sono accorto che la calotta è un po' troppo opacizzata. Vado quindi a metterne una nuova così da non perdermi i dettagli dentro la canna fumaria. Fatto! Siamo inseriti dentro la canna fumaria. Ora parto con la registrazione. Schiacciando il tasto REC sarà possibile registrare quello che noi vediamo. Al lato destro in basso vedete quanti metri è stato allungato l'aspo che c'è all'interno della telecamera. I minuti di registrazione. Sarà poi possibile ritrovare il piombo della canna fumaria schiacciando da questa parte. Come potete vedere l'obiettivo che si rimette in posizione. E sulla parte alta troveremo tutte le indicazioni che sono la data, l'ora, la percentuale di batteria residua. Sul lato sinistro in alto vedete il simbolino del wifi perché è possibile collegarsi anche con l'applicazione che più tardi andremo a vedere. Ora procedo con la via d'ispezione. Vediamo che c'è un sacco di catrame. Funzionalità interessante di questa telecamera è la possibilità di avere più o meno una misura, uno sboccio di misura all'interno del diametro della sezione tra due punti. Adesso qua è molto lucida quindi si fa un po' fatica ma quando la canna fumaria ha una sezione, ha una consistenza comunque più rugosa funziona molto bene. Siamo arrivati in questo momento al T di innesto che potete vedere, noi vediamo la luce fuori. Ci rimettiamo in verticale e procediamo con il T di ispezione che ha metri 6,50 m, giusto? Fino ad arrivare alla base della canna fumaria. Schiacciando di nuovo il tasto REC interrompo la registrazione. Ora riavvolgiamo l'asto della telecamera e ci spostiamo alle canne fumaria successive. Procediamo alla prossima video ispezione prima della pulizia. Questa è la canna fumaria a servizio della cucina economica che abbiamo visto prima. Siamo ora dentro la canna fumaria a servizio della cucina economica. Procediamo con la video ispezione. Qui hanno bruciato circa 15 linee a 20 quintali di legna. Questo è un tubo semiflessibile. Potete notare la differenza rispetto al tubo rigido che abbiamo visto prima. Anche la consistenza della puligine è diversa. Quindi in questo caso utilizzeremo poi per la pulizia un attrezzo differente. Quando è possibile è sempre meglio utilizzare delle spazie morbide. Sempre se la puligine che ritroviamo lo consente. Adesso procediamo un po' più rapidamente. Eccoci qua. Qua siamo all'innesto del T in casa. Potete vedere il nostro adesivo. E sotto invece abbiamo il cassetto di raccolta con l'ispezione che poi andremo a rimuovere per rimuovere la puligine. Più tardi vedremo la differenza dopo aver eseguito la pulizia. Procediamo ora con l'ultima video ispezione. Pulizia che faremo qua dal tetto. La prossima la faremo dal basso a salire. Questa è la canna a fumare a servizio della stufa di mio fratello. Quella col forno sopra. Questa di legna ne ha mangiata veramente tanta. La stufa che abbiamo collegato qui è una 5 stelle. Quindi è una delle stufe con i più alti rendimenti che ci sono sul mercato. Ora faccio la video ispezione e vi faccio vedere in che condizioni troviamo la canna a fumare. Entriamo ora dentro la canna a fumare. Ci mettiamo in modo da poter vedere bene il suo interno. La puligine ha un'ottima consistenza e è bella polverosa nonostante i quasi 40 quintali bruciati. Direi che la stufa che abbiamo collegato ha lavorato molto bene. Mettiamo a fuoco. Basta un semplice clic e vedete che c'è l'autofocus. Se volessimo mettere a fuoco di là, basta cliccare dall'altra parte. Qua ci sono due curve che abbiamo passato tranquillamente. Un po' di metri ne abbiamo un bel po'. Siamo nella parte più alta del tetto. Allora, qua siamo arrivati sotto il T. Qua c'è ancora fuligine, quindi... Siamo arrivati alla base della canna a fumare. Andiamo ora a fare l'ultima video ispezione e pulizia dei cani fumari. Facciamo una video ispezione preventiva. Andrò su due o tre metri, anche perché da cammino sporco tendenzialmente diventa difficoltoso vedere e comunque potremmo sporcare in casa del cliente. Facciamo la video ispezione prima e dopo. Io parto. Mettiamo a fuoco. Qua possiamo attaccare l'audio e registriamo. Qua è possibile prendere la misura tra i due punti. Qua vediamo due curve che ci sono dopo circa un metro e mezzo. Qua possiamo vedere già la luce del comignolo che abbiamo visto precedentemente sul tetto. Ora non riesco a procedere perché comunque dal basso salire la rigidità in canna a fumare è grande e limitata. Però ho già verificato che la canna a fumare arriva a tempo. È possibile in fase di video ispezione andare a mettere dei dettagli durante la registrazione. Non so, per esempio, voglio mettere curve. Ah, 45. Ok. In questo momento, sullo schermo verrà segnalato che avevo delle curve a 45. Trovo una crepa, un'ostruzione, qualsiasi cosa, posso segnalare a che altezza è. Altra cosa interessante è la possibilità di regolare anche manualmente il fuoco. O sennò basta toccare lo schermo e vai in autofocus. Si può anche regolare la luminosità arrivando fino a spegnere completamente la luce. Per chiudere si può anche fare delle foto. Quindi io voglio fare non un video perché il cliente non me l'ha commissionato, voglio fare semplicemente la foto a un dettaglio. Non so, per esempio, qui. Schiacciando sul tasto della fotocamera mi salverà a quanti metri sono e farò una foto dell'oggetto che ho trovato. Una volta fatta la video ispezione procediamo con la pulizia. Procediamo ora con le video ispezioni per verificare se abbiamo fatto un buon lavoro durante la pulizia. Qua siamo imboccati nella canna fumara della caldaia. Si può notare ancora la presenza di un po' di catrane. Però direi che con la pulizia fatta con le catene il risultato è stato discreto. Quando si fa questo genere di pulizia è sempre bene non esagerare e fare in modo che si risolva il problema della condensa del catrame. Quindi se abbiamo usato legna umida o se c'è una canna fumara non esagerata correttamente, insomma bisogna porre un rimedio perché la pulizia con le catene è sempre l'ultima possibilità. Si direi che il risultato è stato ottimale. Seguiamo in fondo. C'è ancora un po' qualche segno di catrame. Niente di esagerato. Passiamo all'imbocco. dei tubi di raccordo. Eccoci alla fine. Andiamo a fare la video ispezione della canna fumaria della cucina economica che abbiamo visto precedentemente dall'azienda De Manico. ritroviamo il centro della canna fumaria e procediamo. Qui andremo a selezionare dal menu della telecamera faremo delle note. Mettiamola così. Faremo delle note in cui segnaleremo qualche ostacolo anche se non ne troviamo. ecco per esempio qui abbiamo il semiflessibile leggermente sollevato. Facciamo una nota. Siamo ora praticamente alla base. Quindi qua segniamo invece fine cammino. Quando arriverà Luca sfruttando l'app qual è il risultato di questa video ispezione come il rapport che viene prodotto. Procediamo ora con l'ultima video ispezione dal tetto. Dopo faremo una video ispezione dal basso a salire. Che sarà esattamente quel cammino qua di fianco. Se lo vuoi far vedere Ale. Sarà l'ultima video ispezione che faremo dal basso. Perché grazie al cavo semirigido è possibile salire nelle canne fumare per alcuni metri. Procediamo ora con la video ispezione dell'ultima canna fumaria. Questa canna fumaria è servizio di una stufa che abbiamo a pieno terra. La pulizia anche in questo caso ha dato degli ottimi risultati. Qua non sono state consumate quanti tivi esagerati di legna e comunque la qualità della legna era buona. Qua possiamo vedere due curve a 45 gradi. Quando muovo l'obiettivo sullo schermo mi compare più o meno l'andamento, la pendenza della canna fumaria. Ho sempre preso un po' con le pinze ma è abbastanza affidabile. Questo è il nostro tubo di raccordo che abbiamo in casa. Riportandoci sulla verticale, proseguiamo fino alla base. 10,17 m dice la telecamera, questa canna fumaria ne è 10,50 m. Non ricordo perché l'ho stellata recentemente, quindi è al 10 m al metro. Direi che perde un 40 cm, 30 cm su 10 m. È molto affidabile un metro digitale. Questa è l'ultima video ispezione dal tetto. Ci spostiamo in casa. Dal basso verso l'altro si riescono a fare tranquillamente due curve a 40 cm. 35 cm, a volte anche 3 cm, specialmente in diametri grandi. Dalla video ispezione che stiamo facendo potete apprezzare il fatto che la canna fumaria risulta bella pulita. E ora siamo alla terza curva e vediamo la luce. Ottimo lavoro! Visto i 9.000 gradi che c'erano sul tetto, mi faccio un bicchiere d'acqua all'ombra. Ciao ragazzi! Ciao Ivan! Buongiorno, ben arrivati. Ma siete in anticipo? Ciao! 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 Qua la zona è quella giusta. Volevamo prima unirci per il pranzo. Andate a caccia di parmigiano reggiano, due fette di prosciutto. Siccome tu lavori, come abbiamo detto, noi mangiamo qualcosa e poi dopo facciamo due piatti. C'è che fatica, c'è che si riposa. Certo, giusto così. Ti presento Pietro. Ciao Pietro! Come senti, scusami, la voce è fantastica. Quindi ho portato uno speaker di livello. Passata una certa età, bisogna stare a riguardare. Esatto, sai qualcosa. Eh sì, sai qualcosa. Visto i 14.000 gradi che c'erano sul tetto ieri sera, siamo arrivati ad oggi a fare la seconda parte del video sulle video ispezioni sul tetto. Così ci siamo presi il fresco. Bene. Quindi abbiamo approfittato del fatto che oggi veniva qua Luca a fare il terzo video e ho pensato, andiamo a fare a lui una bella domandina. Sì. A che cosa serve la video ispezione e quando viene fatta? Parliamo di questo argomento perché tanti si domandano a quando vado a fare un intervento di questo tipo? Quando è necessario? Allora, diciamo, innanzitutto ognuno di noi ha a casa un camino, ha un sistema, un generatore che produce calore e questo camino fa parte dell'impianto. Questo camino deve essere manutentato, deve essere verificato e anche all'installazione e non solo durante la fase del ciclo di vita del prodotto. Quindi ci sono delle normative. Tu nel video precedente hai fatto una pulizia, c'è una norma per la pulizia che prevede che ci siano delle fasi in cui venga visto questo camino, venga visionato, determinato quanto è sporco, poi venga pulito e determinato con tutta l'attrezzatura bellissima che hai usato tu. L'abbiamo visto ieri. Esatto. E poi dopo anche essere sicuri che effettivamente dopo un tot anni questo camino sia effettivamente funzionale. Quindi guardare dentro un camino servono delle doti naturali, diciamo sovrannaturali oppure ci vuole una video ispezione. Esatto. Altro tema è quello quando vado a fare un'installazione oppure vado a sostituire un generatore. La sostituzione di un generatore che può essere una caldaia o una stufa o qualsiasi cosa avete in mente prevede la possibilità di riutilizzare quel camino o eventualmente di fare un intubaggio. Esatto. In questi due casi comunque il camino deve essere verificato. Per verificarlo anche qui c'è una norma, l'11859, che prevede che ci sia una video ispezione, ovvero controllare da parte di un operatore qualificato che tutto sia in ordine. Non solo che il camino diciamo faccia uscire il fumo, ma anche che nel suo cammino non incontri degli ostacoli, quando magari hai fatto delle pulizie e avrai trovato sicuramente dei nivi. Ho comprato la sonda Flex appositamente per macinare i nidi, per fare le curve a 90 gradi, quindi pensa a te cosa posso aver trovato con la video ispezione. Ecco, quindi tu hai un repertorio fotografico di tutta eccellenza. Esatto. Quindi in quei casi lì bisogna andare dentro e guardare, ma anche quando vado a fare un intubaggio devo verificare i diametri, devo capire dove sto andando a operare. Quindi qua serve avere uno strumento che sia il più possibile idoneo a verificare quella situazione. Poi tendenzialmente si può verificare anche la canna a fumare a servizio del capo della cucina, cosa che capita tantissime volte. Chiama l'amministratore, sente un odore di fritto all'ultimo piano. Ecco, bravissimo. Ci sono tanti casi dove magari noi abbiamo delle segnalazioni oppure c'è un condomino, io stesso proprietario ho voglia di fare una verifica. Anche qui tra le verifiche possibili da fare, ne vedremo oggi in un terzo video che poi pubblicheremo, sono verifiche sul funzionamento corretto del generatore. Tra queste c'è anche la video ispezione, quindi se non tira, se non ho un tiraggio, un problema può essere anche dovuto a un'ostruzione. L'ostruzione la vado a verificare con la video ispezione. Adesso, grazie all'aiuto anche un po' di Pietro, guardiamo quali sono le caratteristiche principali che dovrebbe avere una video ispezione per essere il più possibile funzionale a questo scopo. Perfetto. Andiamo quindi a vedere come funziona questa telecamera. Beh Ivan, soprattutto quando fai la video ispezione, la cosa principale è utilizzare un prodotto, una telecamera che abbia una testata rotativa, questo è fondamentale. Per noi il prodotto Vista 700 di Verler è il nostro top di gamma, che poi chiaramente viene carrellato in altri piccoli prodotti dove si vanno a prendere esigenze specifiche. Ma la caratteristica principale sulle video ispezioni è sempre il discorso della testata rotativa. L'avrai usata sicuramente nel tuo lavoro, credo che è fondamentale perché ti aiuta a trovare problemi, ti aiuta a localizzare dove posso risolvere un problema. Diciamo che un obiettivo che non ruota non serve a niente, perché basterebbe buttare la testa dentro con una torcia e sperare che fosse perfettamente a piombo, cosa che 9 volte su 10 non è. Oppure c'è chi si improvvisa calando giù dei cellulari, che non è proprio il massimo. Potrebbe essere un'idea, costa più il telefono che la vostra telecamera. Bravissimo, quindi la funzionalità della testata rotativa è sicuramente quello che ti dà una grossa mano. Poi cosa ti può dare una mano a un prodotto di qualità? Ti dà la possibilità di poter fare delle video ispezioni dall'alto verso il basso perché mi viene comodo andare a tetto e scendere e quindi chiaramente con il mio aspo in valigia andare a scendere giù. Oppure se la situazione non mi aiuta lo faccio anche dal basso verso l'alto. Opportunamente accessoriato posso mettere delle spazzoline che me la tengono dritta e salire da sotto sopra. Poi è possibile anche il cavo morbido giusto? Bravissimo, quindi se io non posso andare in valigia perché il tetto è tanto spiovente, io posso prendere questo monitor qui, sganciarlo e mettere un cavo morbido e andare esattamente a fare quello che va a fare lo spazzacamino in caduta. Perdo la metratura digitale? Perdo la metratura digitale, poi di solito il cavo comunque è metrato, un'idea c'è sempre. Mentre invece con il cavo arrotolato in valigia ho la metratura digitale quindi riesco a vedere quanti metri sono andato avanti e a zerarla quanto voglio. Ti fai un attimo, mi diceva il vostro tecnico in laboratorio che una telecamera che ho mandato in assistenza ha fatto il record di sfilatura. Si è vero, di metri al secondo. Purtroppo non si può nascondere niente a Voler, quindi ha detto di riavvolgerla con più criterio perché ha rischio di spaccare qualcosa. Si pensava di fare una classifica dei migliori tempi. Eh potrebbe essere come i videogiochi di una volta in cui c'era quello che ha fatto più punti, potrebbe essere un'idea. Assolutamente vero. Se ti trovi in situazioni di carne fumare molto buia, molto sporche, semplicissimo, aggiungiamo delle luci supplementari, un accessorio che c'è, ed è questa la bellezza di voler sui suoi prodotti. Ti dà la possibilità di poter risolvere. Adattarti a tutte le situazioni. Esatto. Anche in situazioni orizzontali. Se io devo lavorare in orizzontale perché no? Io questa l'ho usata per fare una video ispezione nella raccolta di latte di mio padre. Ho mandato per 17 metri il cavo e ha fatto tre curve a 90 gradi. Un tubo di 120 se non ricordo male. Quindi si può usare anche in orizzontale eventualmente. Assolutamente senza problemi. E ti dà anche la possibilità, siccome la testina è localizzabile, io da fuori riesco a trovarla. Ah con il rilevatore giusto? Quello è un accessorio che mi manca. Quello è sicuramente un'ottima... Potrebbe essere un'idea. Non fammi spendere soldi Luca che tu sei maestro. Sempre a fammi cacciare... Ognuno fa la sua parte. Ci sono quelle persone, quei posti in cui non devi andare, specialmente con la moglie. Se vai in un negozio da bagni... Esatto. Se sei rovinato perché il portafoglio torna alleggerito. Esatto. E una cosa che non abbiamo visto sul tetto perché c'erano delle temperature esagerate e onestamente mi sono anche scordato è la possibilità di collegare l'app a un telefono o a un tablet. Assolutamente sì. E se non mi ricordo male si può far vedere anche al cliente, magari sta sotto di noi in diretta. ma si poteva anche generare un rapportino direttamente. Esatto. Si può collegare a un tablet dove l'immagine viene duplicata a specchio e si può anche comandare direttamente da lì. Ok. Quindi se hai un collaboratore che state lavorando insieme potete entrambi fare fotografie filmate contemporaneamente mentre lavorate e contemporaneamente insieme muovere la testa. oppure molto più semplicemente lasciare il tablet al committente che ti sta facendo il lavoro perché magari ha piacere di capire cosa... Si parla di avercelo sul tetto qua che guarda sulla telecamera. Esatto. Nella portata di un wifi... Purtroppo capita. Eh lo so, lo so. Purtroppo hai questa cosina qua. Ok. La cosa bella cos'è? Che tu puoi direttamente anche rilasciare un report subito. Ok. Il report in pdf del lavoro che hai fatto. Quindi è un modo di lavorare eh come si dice oggi al giorno d'oggi smart. Ok. Molto molto smart. Però funzionale. Ma diciamo che è una funzionalità molto utile. È che io purtroppo vengo da una scuola nata con i rapporti fatti in post. Quindi una volta registrato ci riguardiamo il video e lo produciamo noi però può essere una cosa utile. Si può togliere e poi magari vuoi fare il rapportino ancora più dettagliato. Più dettagliato. Si però oggettivamente un paio di volte l'ho usato ma più che altro da far vedere al cliente lì al momento. Poi abbiamo fatto l'elaborato. Però è un'ottima soluzione. Ti ricordo una cosa in modo molto breve. Quando tu fai la video ispezione quindi stai collezionando una serie di foto, di video. Però fanno parte della documentazione poi del tuo impianto. Quindi è importante che tu riesca a gestire, a tenere questa documentazione e rilasciarla al tuo cliente. Perché in caso di un'eventuale problematica contestazione si può essere utile per risolvere un problema o eventualmente per tutelarci da qualcosa di più spiacevole. Certo, può sempre capitare. Meglio di no ma non so mai. Può sempre succedere. Direi che l'argomento video ispezioni l'abbiamo esaurito. Grazie di questa dilucidazione e di questo supporto. Andiamo ora a girare il prossimo video che vedrete la prossima settimana in cui utilizzeremo strumentazioni un po' più evolute. Gli argomenti saranno molto interessanti. Per domande lasciate un commento qua sotto. Un like è sempre gradito. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao! 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 Ciao!